L'incontro è stato molto articolato, è durato circa un'ora a Palazzo Chigi, si è partito dalla situazione insostenibile e ingiusta della finanza locale della città di Napoli ma anche di altri antilocali, abbiamo parlato di lavoro, di prospettive di autonomia, di sviluppo e di proficua e importante cooperazione istituzionale tra la città di Napoli e il governo, in particolare da un risultato molto positivo dell'incontro che nel breve comunicato stampa congiunto dà solo in piccola traccia il senso di un incontro fondamentale per stabilire rapporti sempre migliori tra il comune e il governo, quindi sono soddisfatto perché per la prima volta nelle interlocuzioni con i governi della nostra Repubblica percepisco, almeno nelle componenti che ho avuto modo di incontrare, l'attenzione giusta per una complessiva riforma delle autonomie e delle finanze locali, quindi se si sostengono le lotte dal basso con cui si stanno emancipando i territori dai vincoli finanziari e normativi si comprende quanto è utile anche la battaglia per i vincoli che da Bruxelles a pioggia arrivano anche nei territori nazionali, quindi noi da questo punto di vista sosteniamo le lotte anche nei confronti delle tecnocrazie, dei vincoli asfissianti che poi ricadono sulla carne viva, però abbiamo bisogno che siano sostenuti soprattutto quelli che lottano da tanto tempo senza soldi proprio per il riscatto delle comunità e per il rafforzamento dei diritti e Napoli in questa è stata prima linea e mi par di capire che alcune interlocuzioni all'interno del governo abbiano le giuste sensibilità per comprendere di che stiamo parlando, quindi la mia valutazione dell'incontro di ieri è molto positiva. Grazie Grazie Grazie